Il Bari non ha più in casa il capocannoniere della Serie B, complice la freccia del sorpasso inserita dal Cagliaritano Gianluca Lapadula su Walid Kedira, ma può freggiarsi della miglior coppia gol del campionato, i 15 gol dell'attaccante marocchino sommati agli 8 centri di Mirko Antenucci a segno con il rigore che ha sbloccato i giochi sabato scorso al San Nicola contro il Benevento, valgono infatti quota 23. Nessun duo nella Serie B 2022-23 sin qui ha fatto meglio e se si considera anche il ritorno in campo e al gol di Michael Foloruncio di nuovo protagonista dopo due mesi di stop e arrivato a quota 7 centri in stagione, il tridente bianco-rosso vale 30 gol, praticamente più del 60% del totale delle marcature del Bari in campionato, 47. Restando all'analisi delle coppie gol si scopre che quella del Bari è l'unica tra le prime 5 del campionato che l'anno scorso giocava già insieme in Serie C e ha già fatto meglio di un anno fa quando Antenucci chiuse la stagione a 15 centri e Kedira a quota 6. Sul secondo gradino del podio ci sono Lapadula e Pavoletti a quota 22, più 4 su Brunori e Di Mariano del Palermo e Mulattieri e Caso del Frosinone, in entrambi i casi coppie da 18 gol. Chiudono il quintetto Coda e Gudmundson del Genoa, 9 centri il primo e 8 il secondo per un totale di 17. La continuità è quindi l'elemento che più di tutti sta premiando la produzione offensiva dei bianco-rossi. Gli innesti di inizio metà stagione nell'ordine Sarcedo e Cangiano andati via a gennaio, Seter, Schidler ed Esposito hanno fruttato complessivamente 7 centri. Nel caso di Antenucci poi l'orizzonte va allargato, in questo momento con 61 gol dall'estate 2019 con il Bari, l'attaccante di Rocca Vivara è a 8 centri da Luigi Bretti che con 69 gol guida la classifica dei migliori marcatori bianco-rossi di sempre, con 7 turni di regular season da giocare e i possibili playoff all'orizzonte, agganciarlo è una missione molto difficile ma non impossibile. Proprio Antenucci ha guidato il gruppo di giocatori, completato da di Cesare Vicari Caprile e Maiello che mercoledì mattina ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncoematologia piediatrica del Policlinico di Bari. Obiettivo donare qualche momento di spensieratezza e uova di Pasqua bianco-rossi a chi vive tempi complicati. Ogni volta riceviamo sempre di più di quello che doniamo, spiegano dal club, i loro sorrisi e il loro affetto ci riempiono il cuore in un modo che non sappiamo descrivere.